Dopo la stagione decurtata dal Covid nella passata annata, l'Amens Scuola Basket Arezzo torna in campo per un campionato di serie C-Gold che si preannuncia alla vigilia particolarmente interessante vista la presenza di tante squadre di qualità. E anche quest'anno si rinnova la collaborazione con Arezzo TV che sarà come sempre al fianco dell'Amens Scuola Basket Arezzo ogni martedì alle 21 in onda sulla nostra emittente la gara casalinga. Il primo impegno sarà invece in trasferta contro la Spezia Basket Club di coach Bertela che solo all'ultimissimo spareggio ha dovuto dire addio alla promozione in serie B nel luglio scorso. La compagine ligure è stata cambiata con l'innesto di giocatori di qualità tra cui spicca l'ex SBA Ramirez protagonista in maglia retina di un'ottima annata nella serie C-Silver. L'Amen da parte sua ha inserito i nuovi arrivati e per il resto coach Evangelisti ha mantenuto l'ossatura rodata dello scorso campionato con Rossi confermato assieme al nucleo storico dei giocatori aretini. L'attesa per tornare finalmente a disputare una partita ufficiale è tanta. Il buon percorso nel precampionato ha messo nelle migliori condizioni possibili la squadra.